Chi ha detto che la scuola è noiosa? Amore. Sta cercando di flottare con me. Gelosia. E' stato la notte da harina, quello di seconda. Tradimenti. Ma senti, se vuole portare via qualcuno, prenda me! Niente da fare, voglio solo belle ragazze. Vendetta. Una scuola così non l'avete mai vista. School Rumble, i nuovi episodi. Oggi alle 15.25, solo su Cartoon Network.